Un cordiale saluto, buongiorno a tutti voi cari telespettatori di FanoTV, ben ritrovati a questo nuovo consueto appuntamento con la rassegna stampa del mattino alle 7.30 in diretta sul canale 17 e anche sulle piattaforme, sui social che utilizziamo solitamente come Facebook, siamo in diretta per dare un'occhiata ai titoli delle notizie più importanti sui quotidiani oggi in edicola. E partiamo però come sempre dal Santo del Giorno, non abbiamo per ora il cartello perché è sbagliato, quindi vi diciamo semplicemente che oggi la Chiesa ricorda la dedicazione delle due basiliche probabilmente più importanti, San Pietro e quella di San Paolo, che sono state fatte costruire dall'imperatore Costantino, parliamo del 300 e qualcosa. Ok, adesso invece andiamo a vedere il tempo con le previsioni della protezione civile delle Marche. Il tempo per oggi sarà inizialmente nuvoloso, con schiarite via via sempre più ampie nel corso del pomeriggio. Nelle prime ore della giornata avremo possibilità di brevi disolati rovesci, in particolare lungo la fascia costiera, le temperature sono senza variazione di rilievo, i venti saranno nord-orientali. Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 19 novembre, ancora cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della copertura lungo la costa in serata, avremo possibilità di brevi rovesci in serata lungo la costa, le temperature in netta diminuzione domani nei valori minimi, quindi quelle della notte, mentre aumenteranno anche se lievemente le temperature del giorno. Di brezza tesa nord-occidentali saranno invece i venti, con intensità in aumento a vento moderato lungo la costa durante la serata di domenica, il mare sarà poco mosso. Vediamo la giornata di lunedì, lunedì sarà un cielo sereno poco nuvoloso, con temperature in diminuzione ancora quelle minime, mentre saranno stazionarie le massime. I venti saranno di brezza tesa, il mare sarà mosso, tempo stabile anche per gran parte della prossima settimana. Allora adesso andiamo a vedere i giornali, cominciamo come sempre dal Corriere Adriatico, il giornale delle Marche, il titolo in primo piano, eccolo qua, gli alluvionati di via Toscana a Pesaro da 12 anni in attesa di risposte, la lunga odissea degli imprenditori, assolto il tecnico di società autostrade. A centro pagina la beffa finale, pistole o meglio c'è stata una rapina all'Eurospin a Montecchio, è stato messo a segno un colpo dopo la chiusura del supermercato, poi vi diremo anche brevemente come si sono svolti i fatti. I malviventi spingono le commesse in bagno, la beffa finale in fuga con l'auto di una dipendente. Andiamo a vedere le pagine interne, hanno chiamato da tutto il mondo per esprimere cordoglio alla famiglia di Gianluca Mattioli, l'arbitro internazionale di basket che è morto in Spagna giovedì sera a causa di un virus. Il ricordo è della moglie Roberta, amore mio eri proprio un tesoro. Il mondo del basket e la città di Pesaro sconvolti per la morte dell'arbitro Mattioli. Ci sarà anche un minuto di silenzio su tutti i campi di basket questo fine settimana, così ha deciso la Federazione Italiana di Pallacanestro per ricordare appunto Mattioli. Tutti gli arbitri scenderanno in gara con le divise a lutto. Sulla questione del caporalato, l'imprenditore che sfruttava i suoi operai, il capo di imputazione è esagerato secondo il legale dell'imprenditore e che adesso punta a riaprire la ditta per continuare appunto a lavorare. E Druda però, Simone Druda che è l'imprenditore che si occupa e che gestisce appunto una fabbrica di infissi, che ha come proprietà una fabbrica di infissi, rimane in silenzio. L'indagine dei Carabinieri coordinata dal PM Silvia Cecchi. La pagina di Fano invece di sanità si occupa Santa Croce fuori da Marche Nord e la pietra tombale sull'ospedale. Così dicono, basandosi sui documenti quelli di 5 Stelle, il primo livello è una piellusione nella clinica privata convenzionata solo attività di tipo chirurgico come ortopedia e cardiologia in regime di ricovero. Piove in palestra, atleti sfrattati, sulla pagina 41 di Fano siamo nella struttura di Cucurano dove si allenano 5 società sportive che però ora alzano la voce. Disagi già denunciati, capiamo i problemi economici ma il Comune deve occuparsene. Ancora, dicevamo della rapina al supermercato di Vallefoglia. Ebbene, è successo allora delle pulizie. Pistola in pugno, commesse spinte in bagno, colpo dopo la chiusura all'Eurospin di Montecchio. La beffa finale alle dipendenti è stata rubata anche l'automobile. Allora dicevamo dei dettagli. Infatti si sono precipitate intorno alle 21.30 circa, scrive il Corriere Adriatico di giovedì. La brutta sorpresa è arrivata proprio mentre le tre colleghe stavano uscendo dall'esercizio commerciale. Dal parcheggio del supermercato sono sbucate all'improvviso tre persone, tre individui con il volto coperto. Uno di loro ha mostrato una pistola e ha intimato le donne di rientrare nel supermercato. L'alluvione, l'alluvione a Pesaro in via Toscana, una storia lunga, vedete, 12 anni. Nella notte tra il 25 e il 26 novembre 2005 il Foglia esonda allagando la zona artigianale di via Toscana. Poi il comitato delle 28 aziende colpite presenta 3 milioni di euro di richiesta di danni, 200 mila euro di aiuti vengono dalla Camera di Commercio, 250 mila euro il massimale di danni assicurativi della provincia di Pesaro. Nel 2009 è stato invece realizzato un impianto di pompaggio costato 1 milione e 200 mila euro che smaltisce 223 metri cubi al minuto. Questa è la vicenda. Dal 2005 però gli imprenditori appunto di via Toscana, riuniti in un comitato, lottano per ottenere dei riconoscimenti. Andiamo sulla pagina di Senigallia invece, vi facciamo vedere questa fotografia con le due palazzine che oggi il giornale chiama le palazzine degli orrori. Perché? Perché a sinistra è la palazzina dove è stata uccisa Maria Federica, mentre a destra quella dove abitava Graziella, la 73enne che è stata uccisa ieri dal figlio 45enne. Le palazzine degli orrori, divise solo da una strada, Mazzoni uccise la moglie nel condominio accanto a quella appunto di Graziella, dove ha perso la vita per colpa appunto ucciso dal figlio. Siamo sulla pagina di Urbino invece, del Corriere Adriatico, studenti, turisti e residenti ai tavoli. Ecco chi muove il business del food, il business del cibo, convivenza tra città e l'università e l'Ateneo, viaggio tra ristoranti e pizzerie del centro dove tra l'altro c'è anche chi offre del lavoro appunto agli studenti. E sempre a Urbino, droga, scuola, arrestato un diciottenne, denunciato il giovane fornitore, giovani di buona famiglia, perquisite le abitazioni, trovate centinaia di grammi di marijuana. Andiamo sulla pagina adesso, sull'altra pagina del Corriere Adriatico, dalla Valle del Cesano, sconti da compostaggio, siamo a Mondolfo, il Comune, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento, meno 25% nella bolletta dell'Atari, producono terriciato almeno 800 famiglie, controlli a campione ogni anno per 40 utenti. E poi a centropagina la fotografia della chiesa di Marotta, in silenzio per l'addio a Giuseppe o per tutti Fabio Frattini, di 72 anni, politico, scrittore ed ex giocatore del pallone col bracciale, morto dopo una lunga malattia. Ieri c'è stato l'addio, uno stroziante addio nella parrocchia di San Giuseppe. Quindi l'errore è che la parrocchia di San Giuseppe, ma lui è Fabio Frattini, non è detto, vi chiedo scusa, ma poi tra l'altro questa mattina abbiamo, vedete, bisogna prenderci un po' anche l'abitudine con il touchscreen in verticale. Allora, strada da Pergola a Fossombrone, rispolverato il progetto del 1990, Baldelli, Bunce e Varotti per l'Inter Valliva, 12 chilometri per 4 gallerie e 5 viadotti. Dunque, realizzare l'Inter Valliva a Pergola a Fossombrone in un più ampio progetto di prosecuzione della quadrilatero affinché possa collegarsi alla Fano Grosseto. La pagina di Cattolica Gabic, finta dottoressa truffa un'anziana, una signora di 87 anni è stata studiata, braccata e circuita lungo via Ferri, tornando a casa dalla messa della sera. La donna, una giovane e italiana, è riuscita a farsi aprire addirittura la cassaforte. I soldi servivano per la domanda di invalidità. Morbidelli da Tavuglia, la notte del campione da Roma a Babucce per vincere. Stasera la frazione di Tavuglia omaggia il suo nuovo fuoriclasse, stand aperti dalle 18, intervista sul palco alle ore 20. Andiamo invece adesso sull'altra pagina di Senigallia, eccola qua, Ascisce e Marijuana a scuola, una liceale scoperta con il fumo, blizze dei carabinieri, studentessa segnalata al prefetto, altri si salvano grazie a Whatsapp. Apriamo il carlino di Pesaro, adesso invece con l'agguato al supermercato, in primo piano con la fotonotizia, dove appunto questi tre incappucciati hanno preso in ostaggio e rapinato tre dipendenti dell'Eurospin di Montecchio, pistole spianate dopo la chiusura, il terrore. Perizia d'accusa, boccia Mecozzi, Mecozzi per lui incompetenza e negligenza. Parliamo del bambino, il caso del bambino di sette anni di Caglio, ucciso dall'otite, curata con soli farmaci, solo l'omeopatia. Il medico omeopata è stato sotto inchiesta per omicidio colposo, doveva utilizzare una terapia antibiotica ma non l'ha fatto, invece prescrisse soltanto prodotti naturali, prodotti omeopati. Creva alla Carifano, sprofonda in borsa, paura, alcune migliaia di investitori in città, di consum preoccupate, la banca solo speculazioni. Il titolo, nella sola giornata di ieri l'azione ha perso il 25%, toccando quota 0,86 centesimi. A far barcollare tutto è stato l'annuncio di un aumento di capitale di 700 milioni. Questo è il titolo in primo piano sul Carlino di Fano. Poi, pergola Fossombrone, urge la strada. I sindaci, serve un collegamento quadrilatero e la Fano Grosseto. E poi, dal barcone al carcere, un gambiano arrestato a Calcinelli con 18 dosi di hashish. E ancora, dal resto del Carlino, due pagine per la morte dell'arbitro internazionale Gianluca Mattioli. L'autopsia adesso per capire cosa lo ha ucciso una concausa, l'immunodepressione e adesso bisognerà capire anche dove ci sarà l'ultimo saluto. Quindi ci saranno adesso tutte le carte burocratiche per il rimpatrio della Salma e poi stabilire la data dei funerali. Ancora, dal resto del Carlino, Ucciso dalla mancanza di cure adeguate. Ecco l'atto d'accusa dei periti contro l'omeopata Massimiliano Mecozzi. Mentre a centropagina vedete la fotografia del piccolo Francesco Bonifazi, di sette anni, ucciso da una banale otite. Le conclusioni sono dei consulenti della pubblica accusa. Il bimbo era svenuto, ma il medico, dice la madre del piccolo, mi consigliò di farlo bere a piccoli sorsi. È un'assurda tragedia che ricorda oggi il resto del Carlino. Da Urbino, per chiudere la nostra assegna stampa, ecco il caso Cossi, es proprio, comune paga, pronto un maxi assegno per la zona industriale di Canavaccio, alla famiglia dell'Avvocato, versati 400 mila euro. Ok, la segna stampa Occhio ai giornali finisce qui. Come sempre vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che questa sera andrà in onda sette per occhio le notizie più importanti della settimana con un'occhiata e un occhio anche alla notizia più importante del giorno. Al 338 49 68 250, invece come sempre potete mandare i vostri messaggi, anche utilizzando l'applicazione gratuita di WhatsApp, al 338 49 68 250. E per questo, come sempre, vi ringraziamo. La rassegna finisce qui. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.